Al-Sukur Masheva rimarrà in carcere almeno fino al 5 giugno prossimo, è quanto ha deciso il Tribunale Savieschi di Kazan, che ha prolungato di altri due mesi la custodia cautelare della giornalista russo-americana di Radio Free Europe Radio Liberty. La reporter è stata fermata il 18 ottobre a Kazan, a poco meno di 800 km a est di Mosca, per aver violato la legislazione russa sugli agenti stranieri. Tra le accuse, anche quella di aver diffuso false informazioni sull'esercito russo.